Già passato in vantaggio in 1-0 per il calcio. Il suo fratello è un grande calciatore, ma lui con il cielo sta dando soddisfazioni, Marco. Sì, questa settimana ho superato un importante esame di certificazione professionale che dà anche più valore alle previsioni che gli amici a casa possono seguire su TVA Vicenza. Quindi ci tengo, come in tutte queste occasioni, a ringraziare una certa Sara Pinna perché nel 2012 ha voluto le mie previsioni su TVA Vicenza, ha quasi scommesso, diciamo, sulla mia professionalità e ringrazio poi anche la mia famiglia, mia mamma Anna Maria e mio papà Gianni che mi hanno molto supportato in questo percorso. Bravo Marco, bravissimo. Grazie. Sono contenta davvero per te. Allora comincia a dare una previsione anche sulla partita di oggi. Allora vai con urso. Batte la posizione di Vicenza, attenzione.